Il papà di Dierino che pomiciava con la ragazza, con una cameriera, e siccome si baciavano, insomma, il papà aveva una certezza, aveva un ristorante, e c'era Pierino, ci fatti via, metti davanti la porta, a papà, ma lascia stare, c'era Pierino, metti davanti la porta, mi devi dire, e ti prometto che ogni bicicletta che passa ti do mille lire, e Pierino dice, no, vi metti davanti la porta, e tagliava, e c'era il papà, poi cominciava con la ragazza, a papà, faccia uno, bravo Pierino, ti do mille lire, e poi cominciava così, e poi sono due contante, papà, sono due contante, due mille lire, e poi cominciava sempre lui, gli affaccia di nuovo, ha papà gli stanno facendo il giro di l'aria, ha, 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 allora c'è la scuola, da poco non erano ciù e due, e poi è una obumia, eh, ah, ah ah, Ehm, questo è il mio potente! Grazie.